Salve a tutti, in questo video parliamo di π. In particolare, oltre a un'introduzione ovviamente su questo numero che più o meno tutti conoscono, vi farò vedere che π è il rapporto tra due quantità inesistenti. Allora, intanto iniziamo a dire che π non è 3.14 o 3,14, come spesso si dice, soprattutto a livelli scolari magari più bassi, perché π è un numero che ha infinite cifre decimali, cioè è un numero irrazionale. Cosa vuol dire irrazionale? Vuol dire che la sua parte decimale non termina mai e non si ripete mai, quindi non c'è nessun periodo. Eppure π è comunque un numero reale, perché i numeri irrazionali sono numeri reali. Numero reale vuol dire che sostanzialmente ha il suo posto nella retta dei numeri e ha tutte le proprietà dei numeri reali che conosciamo, quindi può essere sommato, sottratto, moltiplicato e ordinato. Tutte le proprietà, belle proprietà, che ha l'insieme dei numeri reali. L'importanza di questo numero sta soprattutto nel fatto che è ricorrente in tantissime formule. In questa videata vi ho riportato soltanto alcune delle formule in cui compare appunto questo numero. Alcune di queste formule sono all'interno della matematica, riguardano aree, volumi, di figure geometriche, ma ce ne sono altre anche dalla fisica. Quindi è un numero praticamente presente in tantissimi ambiti. Ecco da qui la sua importanza. Ma da dove comunque viene fuori quel 3,14 eccetera? Cioè qual è la sua definizione? Allora c'è una definizione geometrica che è stata anche quella un po' che ha guidato la sua scoperta nell'antichità e si basa sulla circonferenza e sul diametro. Quindi vedete ho rappresentato una circonferenza in blu e chiamiamo con C grande la lunghezza della circonferenza. Un suo diametro, l'ho indicato con D, indichiamo appunto con D la lunghezza. Faccio notare che tutti i diametri della circonferenza hanno la stessa lunghezza, quindi non importa quale diametro andiamo a scegliere. Ecco, la domanda che soprattutto si sono fatti gli antichi è sostanzialmente quante volte il diametro sta, riesce a ricoprire la circonferenza, immaginandolo di poterlo curvare a coprire la circonferenza. Quindi la definizione del numero pi greco è il rapporto quindi tra la circonferenza e il diametro C fratto D, cioè quante volte D sta nella circonferenza. E appunto ci sta più di tre volte ed è rappresentato il numero di volte da questo numero irrazionale. Notate che questa domanda può essere posta per una qualsiasi circonferenza, cioè non importa la grandezza della circonferenza, non importa quanto sia il suo diametro. Quindi circonferenze grandi, piccole o medie, questo rapporto sarà sempre lo stesso. Ecco perché si può definire in questo modo pi greco. Cioè non dipende dalla particolare circonferenza che scegliamo. Però a questo punto, in questo modo, pi greco è un rapporto tra due quantità ben esistenti. Invece io in questo video voglio farvi vedere che pi greco può essere considerato anche il rapporto di due quantità che invece non esistono. E quali sono? Allora, consideriamo intanto la radice quadrata di meno 1. La radice quadrata di meno 1 è una quantità che non esiste. Perché? Perché il quadrato di un numero reale non può mai essere negativo. Rispetto alla regola dei segni, se prendiamo un numero e moltiplichiamo per se stesso, comunque che abbia segno positivo o negativo, il risultato sarà sempre positivo. Per cui possiamo dire che x al quadrato è diverso da meno 1 per qualsiasi numero reale. Anche il logaritmo di meno 1 non esiste. Perché? Perché sostanzialmente una potenza con base positiva non può essere negativa. Se prendiamo un numero positivo, lo eleviamo a qualsiasi numero, non possiamo mai ottenere come risultato un numero negativo. In questo caso è indicato con log il logaritmo in base e. Quindi questa proprietà si può esprimere dicendo che se eleviamo e a un qualsiasi numero x, non otterremo mai come risultato meno 1, qualsiasi numero reale. Eppure di queste due quantità inesistenti io vi propongo di calcolarne il rapporto. Sembra un po' una provocazione, ma in realtà quello a cui mi sto riferendo è all'utilizzo dei numeri complessi. Perché queste due quantità non esistono né reali, ma esistono come numeri complessi. Allora, intanto noi sappiamo che nei numeri complessi meno 1 è il quadrato dell'unità immaginaria. Quindi in un certo senso possiamo dire che la radice quadrata, quindi di meno 1, è proprio uguale all'unità immaginaria. Quindi ci appuntiamo questa proprietà di base dei numeri complessi. Però meno 1 possiamo anche vederlo come meno 1 più 0i, quindi come un numero complesso, con coefficiente 0 nella parte immaginaria, e questo ci permette di rappresentarlo nel piano complesso. Sarà un vettore, il vettore che vedete, che forma, di lunghezza 1 chiaramente, che forma un angolo di pi greco con l'asse reale. Quindi questo ci permette di scrivere meno 1 in una forma trigonometrica. Quindi coseno di pi greco più i seno di pi greco. Allora, un risultato profondo, diciamo, della teoria dei numeri complessi mi dice che questa espressione trigonometrica è equivalente a un'espressione esponenziale, cioè al numero e elevato alla i pi greco. Quindi, se noi vogliamo calcolare il logaritmo di meno 1, è come se calcolassimo il logaritmo di e elevato alla i pi greco. E quindi, essendo la base del logaritmo e, il logaritmo è proprio un esponente, questo logaritmo vale semplicemente i pi greco. Quindi adesso veniamo a quello che volevamo fare, cioè a calcolare il rapporto tra il logaritmo di meno 1, che è una quantità inesistente, nei reali, e la radice di meno 1, che è appunto una quantità inesistente anch'essa nei reali. Beh, date le uguaglianze che abbiamo trovato, calcolare questo rapporto equivale a calcolare il rapporto tra i pi greco e i. Quindi, ovviamente, semplificando il fattore i, troviamo che il rapporto tra queste due quantità che esistono solo nel mondo dei numeri complessi, anzi, sono quantità proprio immaginari e pure, il rapporto è uguale invece a un numero reale, che è pi greco. Se vi è piaciuto il video, grazie a tutti e vi invito, come al solito, a iscrivervi al canale.